Vietato a fallire l'appuntamento con i tre punti, questo il diktat in casa Real Città di Paternò che per l'undicesima giornata del campionato di promozione ospita al Falcone Borsellino la rinascita netina. Formazione penultima in classifiche, unica compagine del girone a non aver ancora vinto uno stralcio di partita. Gara sulla carta e solo su quella scontata per i paternesi che vogliono centrare il poker di vittorie consecutive in campionato e mettere sempre più pressione al Città di Ragusa e al Santa Croce con gli blei che domenica rischiano grosso sul campo dello Sporting Eubea mentre la vice capolista ospiterà il Città di Catania. Occasione da non fallire per la banda La Rosa, i tre punti con i netini sono obbligatori. Qualunque altro risultato non verrà preso nemmeno in considerazione dall'ambiente rossazzurro. La squadra è in ottima salute, reduce da quattro vittorie consecutive compreso il successo di Coppa Italia con l'Atletico Catania di mercoledì e domeniche presupposti per allungare la striscia positiva ci sono davvero tutti. Troppa la differenza tecnica tra i paternesi e i netini, la formazione di Tringali proverà a giocare con la mente libera da qualsiasi pensiero e senza nessuna pressione perché è chiaro che la vice cenerentola del torneo non ha nulla da perdere al Falcone Borsellino. Chi ha tutto da perdere inevitabilmente è la squadra di La Rosa che non deve assolutamente commettere l'errore di sottovalutare i netini perché nel calcio non c'è nulla di certo e i favori del pronostico sono sempre e solo sulla carta ma il campo sappiamo può ribaltare sempre le gerarchie. Ecco perché per i ragazzi di La Rosa sarà fondamentale non sbagliare minimamente l'approccio alla partita azzannandola sin da subito. Contro la rinascita Netina che in trasferta ha collezionato due pareggi e tre sconfitte ma che settimana scorsa ha fermato l'Atletico Catania sul suo campo torneranno dal primo minuto Garrasi e Minutola lasciati a riposo nel turno di Coppa Italia. Assende invece per squalifica Caruso, non ci sarà nemmeno Reale indisponibile mentre Campanella e Daidone anche loro alle prese con acciacchi fisici vanno monitorati attentamente. In avanti invece è probabile che Barbagallo, tre gol nelle ultime due uscite stagionali possa trovare spazio sin dall'inizio. Al Falcone Borsellino, start alle 14.30, dirigere il match il signor Giovanni Pettinato di Messina coadiuvato dagli assistenti Antonino Di Paola, Di Catania e da Francesco Conti Di Enna.